Buonasera a tutti e benvenuti al 55 di Milano, siamo in piena settimana della moda, anche se ci sono dei tempi difficili, io veramente vi ringrazio per la vostra presenza questa sera, vorrei un applauso per tutti quanti perché siete stati presenti domani. Vi abbiamo preparato un spettacolo all'insegno della moda, ma innanzitutto ridicato con solo la violenza sulle donne. Vi ho portato qui un intero palpa, se lo vogliamo, di tutte le nazionalità, partiamo dalla Romania, qui un grande membro, Claudia, la Miss Burlesque, la regina del Burlesque, Uzbekistan, qui Rabi, grazie Rabi per la tua presenza, ce l'avevano colonia, Ucrania, Italia evidentemente, di tutti i coloni. Parto dal presupposto che non esistono delle donne brutte, sono delle donne che non sanno magari curarsi, non esiste nazionalità, non esiste neanche taglia, neanche colore, neanche fattore religioso, neanche gusto. Ognuno si deve trovare il suo stile. E questo è il mio messaggio per tutti quanti, femmine o maschio. Io spero che vi piaccia il nostro programma di questa sera, che ve l'abbiamo perché l'ho preparato, avete anche musica, ce l'abbiamo qui, un grande membro celeste che vi incanterà con la sua voce, direi, da soprano, addirittura a cui vi piacerà sentire.